Per illuminare la casa, basta un gesto. Per preparare la cena, basta un gesto. E se hai problemi con il tuo fornitore di luce e gas, basta un gesto. C'è il servizio conciliazione dell'autorità per l'energia, a cui puoi rivolgerti quando hai già fatto un reclamo al fornitore e non è stato risolto. Per risolvere i problemi con i fornitori di energia, basta un gesto. Informati all'800 166 654. Grazie.